Io ho portato per, si crede, non è un atto di corruzione perché il valore è soltanto simbolico. Il famoso orologio del Milano, finalmente lo venga. Sono riuscito a trovarne uno perché non ce ne sono più, erano 100. È vero che li distribuiva? Erano 100, li abbiamo distribuiti tutti, questo con molta fatica sono riuscito a sottrarlo a un consigliere del Milano che ce l'aveva ancora impacchettato e via. E se il signor Bertinotti lo gradisce, io sono lieto di farglielo pervenire per la sua fede milanista, che è forse l'unica cosa su cui siamo in accordo. Dico qua. Guardi che bello. Grazie. Grazie. Lei quando ha cominciato a rifare per il Milano?